buongiorno bella gente bentornate nel mio canale e benvenuti per le persone nuove eccoci video nuovo sulla Zara, i sconti, gli articoli scontati che ci sono, quali sono gli articoli che ci sono, quale sono le cose interessanti che si possono ancora acquistare dalla Zara allora ci sono tantissimi vestiti colorati questi qua non entrano nel sconto ci sono tantissimi articoli veramente molto interessanti vestiti, gonne, camicie, magliette soprattutto top che ci sono tantissimi molto belli io comunque durante il video ne ho preso un bel po' per provare anche se c'era una coda infinita di attesa per entrare a provare la roba ci sono delle tute molto carine pantaloni come vedete 8 euro ci sono ancora i sconti tra il 30 e il 70 per cento su tanti articoli roba veramente molto colorata molto estiva e a me la roba colorata piace tantissimo perché il mio armadio è pieno, sta pieno di roba nera mi sono limitata più che altro a vedere le cose colorate poi alla fine mi ha toccato prendere due cose nere ovviamente per la sera scusate la mia voce però sono raffredditissima dovuto al caldo e all'aria condizionata che non possiamo farne a meno perché c'è tanta umidità anche se non sembra però qua a Valencia c'è tantissima umidità ci sono ancora tanti vestiti veramente molto interessanti io ne ho scelto un bel po' più che altro le cose che ho trovato che mi interessano per quanto riguarda il taglio del vestito e e anche per i colori come vedete ho scelto questo rosa è stupendo cioè è stupendo però secondo me è troppo scollato anche se io non ho tirato tanto e tutti i fili che ci sono invece questo lo adoro lo adoro stupendo c'è di tutti i colori verdi blu nero bianco molto bello costo di credo di 12 euro guardate che meraviglia io lo stringerei un pochettino di qua sinceramente che il colore non sta bene molto carino molto però è troppo secondo me è troppo scollato davanti lo metto così troppo lo metto più che altro così dietro è perfetto perfetto ora me lo llevo è il mio non rispiro con l'uomo però la manietta è molto bella troppo comunque se vi piace quel video mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e seguitemi su instagram e facebook che indosserò il vestito in una maniera molto più dettagliata e qui metterò di foto bello bello questi qua non ce la faccio mettere dentro le mani non ce li riesco rimango così no carino però no l'ultimo adesso arriviamo alle cose che ho deciso di comprare non ho preso tanta roba anche se avrei voluto ho scelto questo vestito rosa perché voglio dargli una chance e prima volevo chiuderlo bene e provarlo bene comunque questo vestito non entrava nei sconti nei saldi costava 35,90 euro e quando sono arrivata alla cassa perché comunque era negli articoli scontati mi ha detto che non era scontato e me lo gli ho dato comunque una possibilità comunque li posso restituire se in caso non mi trovo bene invece questo l'ho pagato anche questo un prezzo pieno sono 12,90 euro invece questo l'ho pagato 5,90 euro molto molto bello davvero molto bello mi piace perché è proprio scollato dietro però davanti è chiuso quindi va benissimo con dei pantaloni una gonna lunga questo l'avevo comprato l'altra volta però l'ES mi sta larga e quindi sono andata a cercare l'XS però non c'era e quindi preferisco tenerlo bella gente se vi piace questo video mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina e alla prossima ci vediamo domenica per il video per i capelli ricci novità ragazzi grazie grazie grazie